Raccolte il doppio delle firme necessarie per la presentazione delle liste in Abruzzo del movimento Fare per fermare il declino. 2000 quelle raccolte a fronte delle 1000 richieste. Entra nel vivo la campagna elettorale più accesa degli ultimi decenni e Oscar Giannino è in campo. Fare per fermare il declino è il movimento di matrice liberale che procede da solo. Si tratta di una nuova formazione politica nata attorno a un gruppo di intellettuali economisti liberisti la cui leadership è toccata a un giornalista. Domenicature abruzzese per il candidato premier che sarà all'Aquila alle ore 10.30 per un incontro e poi visiterà il cuore del centro storico. Noi vogliamo non solo creare occupazione per i nostri giovani, vogliamo un paese in cui i loro talenti possano svilupparsi in pieno e verso direttrici che non saremo noi, bensì loro, a decidere. Così ai nostri microfoni ha dichiarato il candidato alla Camera Giorgio Siringo. Obiettivo raggiunto di raccolta firme per il movimento Fare per fermare il declino, un movimento che nasce grazie all'azione della giornalista Oscar Giannino. Raccolte ben circa 2.000 firme nel solo territorio abruzzese. Sì, assolutamente sì, l'obiettivo raggiunto è superato, ricordiamo che le firme necessarie erano solo 1.000 per la Camera e circa 800 al Senato, invece abbiamo raddoppiato esattamente il numero. Questo grazie allo sforzo di tutti i volontari che in pochissimi giorni hanno approntato tutti i punti di raccolta. E in particolarmente è un grazie a tutti i cittadini dell'Aquila e abruzzesi che hanno affollato i punti di raccolta. E un ringraziamento ai Notai e al Centro Commerciale Meridiana che ci ha ospitato per la raccolta firme. Talento, opportunità, si parla di questo nel vostro programma. Ecco, un movimento che cerca di costruire un'Italia migliore. Si dice spesso, però voi credete diciamo in maniera particolare. Sì, un programma, credo che il nostro sia l'unico programma basato su numeri, numeri reali partendo dal debito pubblico che va battuto assolutamente vendendo il patrimonio dello Stato, altrimenti non si potrà fare nulla. Questo servirà a liberare risorse che dovranno essere spostate sul lavoro e sulle tasse. Tasse che oggi sono eccessive, soprattutto stanno strozzando le imprese, basta girare nel nostro abruzzo per vedere cosa succede, bisogna dare in modo che le aziende possano respirare. Disse John Kennedy, felicità è la possibilità di poter sviluppare al meglio il proprio talento. E' questa la frase slogan del movimento di matrice liberale. Ci riferiamo a quella borghesia colta e illuminata che dopo un ventennio di berlusconismo, trascorso tra mal di pancia e mogugni, si era illusa di poter voltare pagina per intraprendere un nuovo percorso di ricostruzione civile e crescita. A loro vogliamo spiegare i nostri principi nella convinzione che nel nostro programma e nella nostra coerenza risieda il vero voto utile e non quello che tradizionalmente è espressione del compromesso. Domenica tour abruzzese per il candidato premier Oscar Giannino che arriverà all'Aquila alle 10.30. Terrà una sorta di conferenza stampa nel centro Moviplex e poi farà anche una visita in centro storico. Sì, invito tutti i cittadini aquilani e anche gli imprenditori a partecipare. Oscar Giannino arriverà alle 10.30, parlerà per circa un'ora, un'ora e mezza. Dopodiché è previsto un giro nel centro storico per far vedere anche a lui lo stato del nostro centro storico in un momento. Perché votare e fare per fermare il declino? Fare per fermare il declino, votare per noi perché è un movimento che si è schierato con nessuno, corre da solo proprio perché il nostro programma è diverso dagli altri e nessuno ha voluto sposare la nostra linea di programma e il nostro manifesto e allora si è deciso di andare da soli. Quindi un programma chiaro, con proposte chiare, con numeri chiari, senza troppi fronzoli fondamentalmente. Grazie. Grazie.